Ciao ciao a tutti, oggi mi rivolgo in particolar modo agli uomini ma anche alle donne che magari vogliono fare un regalo al marito vi presento questo fantastico Revolution Trimmer, vedete è un apparecchio molto compatto, molto piccolo ma veramente veramente completo sicuramente in giro avrete visto accessori apparecchi simili a questo la differenza è che normalmente quegli apparecchi hanno una lama che quindi consente un numero limitato di applicazioni il Revolution Trimmer ne ha due, vi consente tre diversi livelli di rasatura quindi di rifinitura della barba e quattro diversi livelli per il taglio dei capelli, è un apparecchio completo che veramente ha anche la luce quindi vi permette una maggiore precisione e vi permetterà appunto di andare a fare quei piccoli ritocchi di miglioramento di perfezionamento, di rifinitura per le barbe, non so se avete la basetta, il pizzetto, i barfetti, qualsiasi cosa per rifinire i peletti del naso, le sopracciglia, se siete uomini che amano diciamo andare in palestra e tenersi un po' più curati anche per rifinire diciamo la rasatura sul petto quindi diciamo vi permette di andare a fare un po' tutto, dai capelli a rifinire la barba e tutti quei peletti che oggi anche per voi uomini diciamo sono diventati a volte veramente superflui quindi Revolution Trimmer è un'offerta di Dixa24 le spese di spedizione vi ricordo sono sempre gratuite quindi approfittatene, portate a casa questo apparecchio che veramente è piccolo, compatto ma veramente completo due lame, ricordatelo, Dixa24 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 Dixa24